E' scattato lo shopper a oltranza nei ristoranti McDonald's dislocati tra Napoli e provincia. Si tratta dei sei McDonald's di proprietà della società Napoli Futura, una joint venture tra un'impresa partenopea e il colosso americano della ristorazione. L'azienda ha confermato la volontà di licenziare 39 dei 177 addetti. Contro i vertici dell'azienda prosegue il presidio di protesta dei lavoratori dei ristoranti di piazza Municipio a Napoli, che ieri hanno ricevuto la visita del segretario generale della Will Campania. Anna Rea, la leader del sindacato, lancia strali contro l'azienda di fast food. Licenziare lavoratrici o lavoratori con la 104, portatori di handicap, donne, capofamiglia, è una cosa che credo che non solo grida vendetta, ma è una questione che farà discutere l'Italia intera. Noi abbiamo intenzione di questa questione di farla discutere a tutti e McDonald's deve dare risposta. A ogni panino che vende, ai giovani e alle famiglie, deve dall'altro lato ci sarà un'immagine di quella lavoratrice capofamiglia o di quel lavoratore che ha perso lavoro perché è un'azienda che guarda soltanto al profitto. E mi auguro che sia soltanto questo, perché ripeto, è una vicenda molto strana e noi su questo chiederemo anche alla magistratura di fare chiarezza, che è al limite della trasparenza. Al fianco dei dipendenti anche Rino Strazzullo, segretario generale della Wiltux, che avverte sul rischio che i licenziamenti possono riguardare tutti i McDonald's della Campania. Le lettere di licenziamento arrivate riguardano soprattutto i rappresentanti sindacali, le giovani madre e le persone che hanno la 104, le categorie protette che hanno dei permessi di legge. Quindi se McDonald's vuole dei robot giovani, funzionali ai loro tempi, senza diritti, noi non ci siamo. Combattiamo, ma combattiamo da Napoli per una battaglia che probabilmente si estenderà a tutti i McDonald's.